Dignità, speranza, futuro, vita sono le parole oggi negate agli anziani costretti ad affrontare gli ultimi anni della loro esistenza, spesso segnata da disabilità e malattie croniche, soli e senza il giusto sostegno. È a loro che è stata dedicata la plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, che in Vaticano ha riunito oltre 200 tra medici, ricercatori e studiosi per capire come prestare assistenza, usufruendo anche delle cure palliative, in molti casi ancora troppo costose e poco conosciute. Il primo passo spetta di certo alla medicina, che deve cambiare approccio e prendersi cura fino all'ultimo di chi, per la sua condizione fisica o sociale, come ha detto anche il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro, potrebbe essere lasciato morire o peggio, fatto morire. Il secondo passo spetta a ciascuno di noi, Marco Trabucchi, ordinario di neuropsicofarmacologia all'Università Romana di Tor Vergata. Quello sforzo che dobbiamo fare è prima di tutto di far capire che invecchiare non è una malattia e questa è la regola fondamentale, far capire alla collettività, alle nostre città, che la persona anziana non è un malato, non è una persona soltanto che perde e che il suo essere in mezzo a noi non è un gestire un fallimento. Ecco, questa è la logica che va assolutamente superata. Nella famiglia e fuori, quando viviamo insieme con gli anziani, noi gestiamo una vita, siamo compagni di una vita, non gestori di fallimenti. Solidarietà sociale dunque, ma anche farmaci sperimentali, nuove terapie per il dolore, oggi per lo più affidate agli opioidi come morfina e metadone, che se somministrati in eccesso possono persino accelerare la morte dell'anziano e ancora le cure infermieristiche specializzate. Prima di tutto però serve la famiglia, anch'essa a volte orientata dalla logica dell'utilità, anziché da quella della gratuità e dell'amore. Il Vescovo Ignacio Carrasco De Paola, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Questo è fondamentale, direi che non c'è niente, mi pare che il Papa lo ha ricordato questa mattina, nessuno può sostituirsi a un familiare, quello che il familiare di per sé può dare per diversi motivi che credo che siano facilmente comprensibili, per i legami che esistono, eccetera. La famiglia è un contesto assolutamente necessario, la famiglia non può sparire. Lavorare e sperimentare quindi, ma al servizio della vita, bene perciò le cure palliative che accompagnano, alleviano la sofferenza e anche se non salvano, valorizzano la persona. Mai invece ha ammonito Papa Bergoglio al rifiuto, all'indifferenza e all'abbandono. L'abbandono è la malattia più grave dell'anziano e anche l'ingiustizia più grande che può subire. Coloro che ci hanno aiutato a crescere non devono essere abbandonati quando hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro amore e della nostra tenerezza. Uno Stato non può pensare di guadagnare con la medicina. Al contrario, non vi è dovere più importante per una società di quello di custodire la persona umana.